Quarto punto, l'ordine del gioco, scusate, con l'azione termine dell'eliminazione delle organizzazioni immobiliari, sensi dell'articolo 58 del 112 e legge 133. Diciamo che la presa l'arte di quello che ha stabilito l'aggiunto nel piano delle alienazioni abbiamente discusso, anche con tutto il gruppo, se ci sono osservazioni anche di questa politica, insomma, non è che ci si viene. Sono state lasciate alcune mappate, piccolini che l'avrebbero già nel precedente piano, che non erano stati poi alienati, che erano in Appalo 840, in Palle Stone, 3843 in Agnellone, proprio piccoli contatti, invece nel 1960, e poi gli altri invece sono dovuti a nuove richieste, delle quali appunto si è stata fatta una stima e verranno poi alienati se la cosa va un po'. Osservazioni, favorevoli, astenuti, immediati esecutivi, perché è ovviamente legato al bilancio, favorevoli, astenuti.